Partita sicuramente molto difficile oggi. Sì, lo sapevamo. La difficile per noi e per loro. Infatti non è stata una bellissima partita dal punto di vista tecnico. L'ho diventata dopo. Secondo me sono stati molto meglio del primo, per esempio. Per tutte le squadre è importantissima questa partita. Siamo stati un po' più fortunati e forse un po' più bravi a restare sempre attaccati, soprattutto nei primi due set, a quello che la partita offriva come opportunità. E' importante, su tre punti importantissimi. Adesso la prossima contro le ragazzine terribili del capitale. A cosa ne pensi? Penso che è difficilissima anche quella, anche perché viene due giorni da questa. Però penso e spero che abbiamo ritrovato un po' di fiducia, perché la sconfitta di settimana scorsa ha lasciato un segno importante. Per noi è stato un brutto segno. Infatti stasera eravamo tesi. Non posso dire che abbiamo giocato male. Abbiamo fatto delle cose male, però ogni tanto è un po' di decisione. Dobbiamo ritrovare le sicuretze. Penso e spero che stasera qualcosa l'abbiamo ritrovato e il martedì dobbiamo continuare con la sconfitta. Grazie. 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 Grazie.